Musica Pizzarate ad andare a mangiare Ciao, tanti auguri fate i bravi, non fate i cattivi e fateci divertire ma che venite non fate i tardi però buonasera auguri un brindisca di Spolsi noi siamo venuti a bere qui proprio a voi, mi nascosto auguri augurissimi, devo dire la verità è buono questo vino ottimo, ottimo proprio per la giornata non è antipasti, devo dire la verità tutto buono, tutto procede bene vi auguriamo vi auguriamo una vita veramente piena di amore e di felicità ovviamente con alti e bassi si sa però per il resto dalla più esperta già ne sa qualcosa il matrimonio che se ne dica è una cosa bellissima, vivete appieno nel migliore dei modi vi auguriamo io posso dire solo Mario e Anna è venuta a zizzinelli auguri agli scusi ciao è stato bello tanti auguri a Anna e Mario per una vita ciao a tutti e tanti figli vabbè femmine e maschi va bene? un grande Mario che giocherà nel Napoli posto di Mertens auguri ma devo premere play tanti anni buona salute tanti auguri agli sposi buona salute non sta registrando ma che le caccia scelta no no aguri agli sposi a non non ci prendi ma la salute no no vi auguriamo mi auguri mi auguriamo devo dire una cosa non c'è più una bella ci ho figlia per cui sarà un'attività per cui sarà dunque giandria mi auguriamo allora c'è Anna, ma devo premere play, tanti auguri a Anna e Mario per una lunga vita, brava, brava, tanti auguri da parte pure della mamma, auguri ragazzi, Anna, che il signore vi benedica, vieni a casa, tanti anni, mi manca, Anna, scusa la nonna, gli manchi, ma è Antonio, uè Peppe, ma è già play, ma devo premere play, sì, è già play, è già play, buongiorno a tutti, auguri agli sposi, auguri agli sposi, noi siamo arrivati da poco, almeno noi, una mezz'oretta, sì, il tempo, Ibn Marag è arrivato, addirittura, io Marag ho provato, l'effetto è lo stesso, comunque auguri di una vita spensierata, è speciale, perché sarà una vita speciale, è che sarà sicuramente una bella bambina, già sa che è femmina, sì, sarà sicuramente bellissima come i genitori, sì, poi a casa avrò finalmente l'opportunità di attaccare i letti e quindi di dormire in un solo letto, ma capito qua, questo è il bello della diretta, non si può entrare, veniamo dopo, sono solo, le parole non mancheranno mai, ma il cuore, l'affetto, l'amore, tutto quello che ci lega, ci legherà per sempre, non trova parole, vi auguriamo, grazie per avermi regalato tutte le emozioni che mi avete fatto provare fino ad oggi, mi sto emozionando da solo, lasciatemi stare, mi manca, vi auguro veramente più di quello che desiderate, ciao, è stato bello, dal cuore, veramente, col cuore, vi auguro cent'anni di felicità, col cuore, al tuo padre, e tanti altri auguri, grazie, ciao, Buonasera, ma chi ti vuoi amare? Ma che cosa? Ma non so, buonasera, buonasera, ma chi vuoi amare? Di Mario, oggi vuoi amare? Di Mario, oggi vuoi amare? Mario e Anna, e chi sono Mario e Anna? Ah, capite chi sono, Mario e Anna, che le ho aggiunto, le ho aggiunto brutte, la barba, quella barba, ah, che l'ho già già riche, bravo, mia sorella, Ragazzi tanti auguri Di una vita felice insieme Vi auguriamo il meglio Ciao, un bacio No, non andiamo Non andiamo a spogliare l'ist Devi chiudere la porta Ciao Mario Io sono libero Io, due volte Dari poche esperienze Ma male sta pure passando Secondo me Secondo me Secondo me Secondo me Ma male sta pure passando Ma male sta pure passando Che è l'altista Che è l'altista Che è l'altista Una cosa seria Ti ringraziamo Per averci invitato La prima cosa E soprattutto perché la bussola non è obbligatoria No Anticipo per la bussola L'ho lasciato in macchina con i soldi Ok, fatto bene Sto sentendo Secondo me Secondo me Ancora non parto Guarda, non ci sono mai In registrazione No, no, no Secondo me Ma sempre Ma manca Allora dove sarà Ma devo premere play Allora raga Inutile dire Va bene Ciao Ciao È stato bello Ci dispiace per la pioggia Però Siamo felici No, non ci dispiace per la pioggia Siamo felici Sbagliati 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 Grazie di cuore Benvenuti alla nostra cerimonia Buon pranzo Buonasera Ciao ragazzi Auguri agli sposi Vi vorremmo dire una sola cosa Una Una In colo Una È un nuovo Gizzi Bell Voi mi volevo chiedere una altra cosa Ma Scusami Ma tu La penna di Mario scriveva? Mi manca Secondo me ha scritto con la matita Anche secondo me Augurati Ciao 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 Ma devo premere play Tanti auguri Anna Vi auguriamo Mario Tanti auguri Buona felicità Ciao ragazzi Siamo di nuovo Hai visto queste idee Bellissimi I capelli Bellissimo acconciatore Ieri sera se l'ho rovinato un po' Però Bellissimo Mamma Non avete visto come sei più bella Ma perché sei pure Mario? Stop E' un'altra stessa E' un'altra stessa E' un'altra stessa Non sei considerata Basta Ciao 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 grazie no, non ho intenzione già è già è c'è il frutto del lavoro non possono più and come ti senti? benissimo come ti sembra? and però è felice è felice è felice per adesso hai detto bene non sai cosa ti aspetto dai and la parola in più brava va bene comunque è tutto bello brava la sposa auguri sento delle donne del flocco amore mio mi manca tanta perché vai troppo lontano no 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 ti auguri pure amare tanti auguri a te a tutta la famiglia in un bacione a te a Mario a Mario no a te a Mario la bambina una bella sposa una bella sposa fortunata e a tanti auguri 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 un bacione a te a Mario a Mario e la bambina ciao ciao buonasera ancora qua abbiamo deciso di mandarti video e di non mandarti più da vicino ma come siamo abbiamo deciso di licenziarti di licenziarti di licenziarti di licenziarti da domani ci risenteremo tutti quindi hai bisogno di un nuovo staff e quindi ti devi risposare con il tuo nuovo staff tanti auguri e c'è anche no dai diciamo una cosa seria noi siamo le collaboratrici di Anna vogliamo ringraziare perché è una titolare perfetta non ne proveremo altra come lei Anna sei il top speriamo che lo sia anche come mamma un bacio ciao auguri ti vogliamo bene signore buonasera buonasera signore ci riconosci? scambierebbe un paduano per una che cosa? per un bustone di dash un bustino di dash oppure per un paluaschi delle nevi un paluaschi delle nevi ragazzi comunque bel matrimonio bel posto si sta mangiando bene stiamo mangiando buona buona mi hai fatto la panza ma tutto a posto mare è una colpa dove ci fatica pure sabato e domenica hai capito? ho detto così ora devi recuperare questa giornata devi fare sabato tutta la giornata e anche domenica e gli ho detto mangio tutto ragazzi auguri ragazzi buonasera buonasera tanti auguri innanzitutto augurissimi per un matrimonio felice pieno di amore è stata una giornata bellissima bella bella giornata anche se il tempo non è stato clemente però vi auguriamo veramente tanta felicità tanti auguri ragazzi tanti auguri ciao ma scusa che dobbiamo dire? vi auguriamo rimanga ciao è stato bello ma dobbiamo premere qualcosa? ciao è stato bello scusami c'è una casa ah no ma sto parlando con te ciao è stato bello è grande fratello è grande fratello ciao è stato bello volevo dire una cosa io mi dovevo confessionare comunque ah no volevo fare tanti auguri speriamo di farla no che sta succedendo? ragà no io c'è paura il terremoto anche in condizioni terremoto quello volevamo farvi tanti auguri auguri ciao Anna si chiama Mario sono tanto felice che avete preso tutto a due insieme e una lunga vita va bene Anna ciao è stato bello Anna ti voglio tanto bene ti guardate qua dentro buonasera sono qui con il mio bagnato è ufficiale eh sì adesso penso che non ti vogliai nemmeno obiettare non puoi nemmeno obiettare quindi va bene così ormai purtroppo non lo so piacere di averti alla mia destra è un piacere averti come cognato non lo so io non se ne merita nemmeno perché lo vedete così ma alla fine è un grande uomo maverita così però è giusto è anche molto peggio quindi non pensate che lo conosciate in fondo soltanto nella parte migliore quindi raga dico ragazzi perché siamo tutti giovani più giovani o meno giovani ma siamo tutti giovani vi ringrazio tutti e poi chiaramente i migliori ringraziamenti si faranno con la mia con la tua sposa giustamente mogliettina un bacio a tutti e buona continuazione vai ma dobbiamo guardare lì sì sì tanto qui ciao Mario ciao Anna siamo qui oggi a festeggiarvi per la vostra finalmente che vi andate di casa ciao è stato bello e vi andate a fare la vostra vita siamo tutti contenti per voi e non possiamo dire auguri ai figli maschi perché è femmina quindi auguri lo stesso e e niente grazie dell'ospitalità è stata una cerimonia bellissima siete strumenti tutti e due un saluto da parte mia di Luigi di Lia mi voglio bene anche io ciao mi raccomando Mario fai la persona seria tranquilla anche se qui non abbiamo dubbi Anna mi raccomando non ne fanno tutto e non vanno a te a te a te a te che appena lo apri se no per farlo facciare un macello e poi non no se ne manda ti prego ma mi raccomando mi raccomando mi raccomando mi raccomando mi raccomando non se lo fai soffrire va bene un bacio che diciamo facciamo un augurio alla coppia più bella del mondo anche se mia sorella è un po' più bella ma non perché ma lui è mio cognato preferito sarà il tuo cognato preferito però mia sorella è più bella sì però lui è mio cognato preferito avete formato una coppia bellissima credetemi non è facile siamo veramente senza parole almeno io lei è un po' più timida di me è stato tutto bellissimo complimenti ragazzi bravo magico che dire che li vogliamo tanto bene questo loro lo sanno glielo dimostriamo tutti i giorni Mario a me è meno però non fa niente vuole bene a me spero che si rifaccia nel tempo soprattutto perché adesso devo stare a te siete a casa sua devi ricambiare almeno un centenaro di cene queste fatte nel corso di un anno buona vita e buon cammino insieme vi vogliamo tanto bene veramente vi abbracciamo forte 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 siete magici e anche se siamo una cosa solo vi dico grazie 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 per la felicità per la gioia per tutto quello che ci regalate a noi e a tutti quelli che vi circondano soprattutto guadiatevi sempre bene Mario trattami la buona tagli a capo ciao allora un ringraziamento a tutti quelli belli e quelli brutti e va bene così quindi non sappiamo cosa dirvi vi ringraziamo di tutto un grazie particolare alle nostre famiglie ai testimoni a tutti gli amici a tutte le persone qui presenti e spero che sia stata una cerimonia bellissima anche per voi per noi lo è stato grazie a voi un abbraccio a tutti vi vogliamo bene ciao 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 ciao